Buongiorno, buongiorno ascoltatori di YouTube, oggi il 29 ottobre 2021, ecco, sono alla stazione centrale di Milano, ma guardare com'è bella, guardare com'è bella, ebbene, oggi è un giorno di vita, oggi è un altro giorno di vita, vado in Valtellena, 12.20, il treno lateralmente, a me il binario 7 oggi parte, per la Valtellena, benissimo, vado Sondrio, Tresenda Pricateglio, poi il mio amico Sandro mi ha detto di visitare la Valtellena Media, prima ho imparato tutti i paesi della Valtellena Bassa, ora sto studiando i paesi della Valtellena Media, poi più avanti magari la Valtellena Alta e così via la mia vita prosegue in questo senso di felicità, vorrei che tutti i giorni prendessi il treno, 12.20, tutti i giorni per Tirano, in fondo in fondo rimanere in treno due ore e un senso di relax dove mi porta a respirare un'aria pura, è della provincia di Sondrio, ecco, ecco che Aldo si incammina. Ascoltatori di Youtube, ascoltatori venite con me, oggi sono qua alla stazione centrale, tra 5 minuti il treno parte e do via la mia vita, per me questo è uno scopo esistenziale, Milano e viaggiare in treno, per ora non mi stufo di girare gli immensi paesini, i più piccoli borghi di quella valle, perché mi piacciono. Ecco, tra 5 minuti sono in partenza, salgo, ho portato il cibo, ho portato tutto e riprendo la mia vita da viandante, da girovago, Aldo.